Per forza! Bello! Bello! Questo è il studio! Adopt e adopt Fronde si è il mercato di folletti Fronde si è il mercato di folletti Bello! Il belluto sembra ... canzone o vuoi le cose singole? Cioè nel senso vuoi tutti gli strumenti insieme o vuoi regolarteli uno per uno? Allora Sul 1 Hai tutta la base Sul 1 hai tutta la base Un sorriso per la stampa? Sai che Roberto lui vuole che documenti no? Allora bisogna documentare Ascolta Fammi che non vada assistente per piacere C'è uno straccetto anche lì dentro così levo un po' la freccia Assistente Questo? Sì grazie Madonna va che roba! Con le dita Eh sì Ma scusa ma tu pizzichi nello stesso punto dove tocchi con l'archetto? Sì Oddio Ok vai Noi lavoriamo questi qui giocano eh Va bene Vado dall'inizio Quanto adesso tocca a me le balle... Dimmi L'intro la lascio loro e io entro solo nella strofa? No tu suona tutto poi decidiamo Ok? E dove vi darlo il metronomo? Ah no no entro solo nella strofa Ah Eh no no Ah 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 E la dove la prima Tu suona solo sulla strofa per carità potrebbero andare avanti anche delle ore non riesco a capire quando attacca la trofa mi conto solo gli intro che poi una volta che prendo dove parte ci sono dimmi tu quando devo andare ok vedi dall'inizio il conto è tanto questa linea è trastamente come quello che cade da cavallo che tanto doveva scendere casario allora questo signore scusami va a comprare un papagallo eh lo si lo spegni perché non si può sapere e no poi roberto mi dice ma come questo spegni perché no dai no 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 Grazie per la visione!